Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, e scusate per l'attesa, era da un po' che avevo in mente di sperimentare i long form nei miei racconti delle gare e mi è capitata l'occasione perfetta, quando domenica durante il mondiale più bello, molto probabilmente gli ultimi 30 anni almeno, proprio a metà gara, mi si è completamente allagata la casa come vedete adesso è tutto ok, però sono stati giorni abbastanza tribolati e già che c'ero mi sono preso tutto il tempo che mi serviva per creare quello che definirei come un vero e proprio documentario di questa corsa ovviamente sarà una cosa molto diversa da una reaction, ho cercato di non perdermi niente, di descrivere ogni singolo, anche piccolo momento importante di questa corsa corsa esplosa oltre 200 km all'arrivo e mentre lo faccio cerco anche di fare un'analisi tattica delle varie strategie di tutte le squadre più importanti non so come è venuto fuori sto zibaldone, godiamocelo insieme e allora bando alle ciance mondiale di Leuven il posto dove viene prodotto il 30-40% della birra mondiale, prova e linea maschile elite, vai col racconto integrale siamo ad Anversa, una città di passaggio, di lupi di mare, di commercianti e di passisti le navi, la birra, le patatine, le pietre e in questo pittoresco scenario sta per andare in scena una delle gare più incredibili, memorabili e ricche di storie che hanno le proprie radici nel passato e riecheggeranno nel futuro per anni e anni quella a cui stiamo per assistere è una corsa spartiacque, una pietra miliare e non riesco a immaginare uno scenario migliore boom partiti, saranno tanti chilometri di neutralizzazione per uscire da Anversa e godersi tutto il boato di un pubblico che onestamente non so se avevo mai visto, non so se è l'effetto che ci dà a vedere immagini di folla dopo tutto quel tempo in cui sembravano una chimera, ma oggi il pubblico belga è stato protagonista tanto quanto i corridori inizialmente va via la classica fughettina da mondiale di poco conto, sono 268 chilometri dietro Belgio e Slovenia, si mettono d'accordo, saranno loro a tenere sotto controllo la fuga e il gruppo durante le prime fasi di corsa non sto manco a dirlo, protagonista assoluto delle prime ore è Timone de Klerk dietro a lui, anvedi un po' Michel Bjerg, vecchie conoscenze dei GT e delle classiche di quest'anno i padroni della prima ora sono loro a 209 chilometri dalla fine, ebbene sì, sto raccontando qualcosa che è successo a 209 chilometri dalla fine stiamo entrando per la prima volta nel circuito denominato delle Fiandre, che è a Overhighs e primo piccolo segnale per noi che vediamo la corsa a posteriori all'imbocco del primo strappo c'è Giuliano Alaphilippi in seconda posizione, trainato da un compagno e sul primo strappo è davanti a tutti intorno a lui ci sono praticamente solo Gregari, ma al Giuliano oggi gli scappa la gamba dopo per tanti chilometri rimarrà nascosto ma questo è esattamente l'atteggiamento di qualcuno che vuole fare la corsa che se la sente calla è qua sul primo strappo l'impeto e l'impatto del pubblico che subito si fa sentire dovranno passare qua svariate volte ma ognuna di queste volte c'è un casino inenarrabile perché come poi abbiamo visto anche da video che sono circolati nei giorni successivi è stata una festa lunga un giorno intero erano tutti lì dalla mattina già tutti ubriachissimi è stata festa prima, festa durante ogni passaggio del gruppo festa in mezzo fra i passaggi del gruppo eppure dopo credo che per chi fosse rimasto ancora in piedi sia stata decisamente anche una bella zona aperitivo immagini indimenticabili già da subito possiamo fare il mondiale nelle Fiandre tutti gli anni per favore? io non mi offenderei tanto poi il Belgio perde lo stesso in quadratura stretta con un po' di protagonisti iniziamo a scaldare i motori c'è il vuttone concentratissimo anche un po' teso probabilmente c'è Mads Pedersen il favorito di pietre vediamo che fine farà c'è il Giuliano, il solito Chad sempre in posa in qualche modo non so come faccia c'è Theo Trentin c'è il vincitore della Sanremo Jasper Steuven e intorno a queste parti ci sono Michael Walgren gli altri italiani e da queste immagini quello che si capisce è che qua a 200 km dall'arrivo c'era già una lotta enorme per stare davanti questa corsa come tutte le corse pernazionali è senza radioline quindi si va principalmente di strategia pregara e la strategia pregara di praticamente tutte le squadre all'imbocco dei primissimi strappi della corsa è dovete stare tutti davanti e questo però a volte genera dei problemi dopo una sosta alle ammiraglie c'è Mads Pedersen che sta rientrando nel gruppo insieme a un sacco di altra gente tanta altra gente poco dietro ci sono anche Matteo Trentin e un altro paio di italiani che non si vedono bene fra di loro c'è Davide Ballerini stanno tutti rientrando nel gruppo ma ci rientrano con l'obiettivo di cercare di risalirlo subito il prima possibile ed è come se ci fosse anche una piccola lotta per rientrare per primi nel gruppo fra tutti questi che erano andati alle ammiraglie e poi per fare i salmoni prima delle altre squadre si crea questo accrocchio pericolosissimo si toccano due bici nel frattempo Mads si gira a chiedere assistenza ma proprio in quel momento fra i tre italiani si sente rumore di ferraglie e boom Trentin e Ballerini volano giù per terra Mads che si era girato non si accorge gli frana addosso catastrofe in casa Danimarca ed Italia Ballerini ultra sofferente Matteo Trentin ha distrutto la bici Mads Pedersen è per terra rientreranno tutti e tre in gruppo ma dopo un lungo inseguimento e soprattutto i due italiani sono messi malissimo comunicano subito a Davide Cassani di avere dolori importanti di poter andare avanti solo qualche altra decina di chilometri per l'Italia forse Trentin era la vera punta nascosta quantomeno alla seconda opzione dopo Colbrelli nonché l'eventuale aiutante perfetto di Colbrelli per il finale e te nel finale ci sarebbe stato ci metto la mano sul fuoco io guarda e anche il Ballero era una bellissima opzione la Danimarca a sua volta perde non so chi fosse il capitano della Danimarca ma sicuramente il proprio miglior velocista resistente a 190 dalla fine ebbene sì la prima grande mossa della corsa la Francia fa vedere ufficialmente che vuole fare una gara d'attacco purissima il primo a dare una bottarella è Valentin Madua il secondo pochi chilometri dopo è Anthony Turgis e attenzione attenzione chi è che vedo tirare il gruppo laggiù in fondo chi è che sta srasoiando a 183 dalla fine inconfondibile il profilo è Remco e Venepol colui che in settimana aveva avuto le palle di litigare con Eddie Merck si accoda subito a questo gruppetto mostra le proprie carte e fa fallire questo tentativo ma la Francia non ha assolutamente finito qui ci avviciniamo allo Smeisberg trenatina di Rémy Cavagnin De Marche dice alla motocamera di levarsi dalle palle Christophe Laporte rimane attardato per una foratura lo spinge con la solita teatralità il magico citifrancese Thomas Vauclair Vauclair protagonista assoluto e questa giornata è anche del post gara perché subito prima dello Smeisberg Alaphilippe dice qualcosa a Benoit Confrois e sapete cosa gli sta dicendo attacca Benoit vai e spaccagli il culo e mentre parte Benoit Confrois attenzione che lo ripeto Benoit Confrois terzo all'europeo vincitore della classica di Plouet decisamente non il tipo di elemento che ti aspetti attaccare a 180 dalla fine di un mondiale fa la sua bella sparata sullo Smeisberg è il momento di riportare la dichiarazione già celebre di Vauclair a fine gara ho detto ai miei ragazzi attaccate sempre sempre dall'inizio alla fine vogliamo sembrare stupidi agli occhi di altre squadre io una frase del genere non l'ho mai sentita ma è esattamente il tipo di contropensiero alternativo di cui mi posso innamorare Tomà noi vogliamo sembrare stupidi vogliamo che pensino ma questi sono completamente pazzi e poi alla fine cosa succede? per esempio che Remco abbocca o meglio che Remco fa quello che deve fare ma vedremo più avanti cosa genereranno questi early moves questi movimenti di inizio gara con Fouat si porta dietro Remco e Magnus Kurt Nielsen c'è subito il gap e questo è un terzetto che fa assolutamente paura e soprattutto è un terzetto nel quale sono presenti tre delle quattro cinque nazionali favorite per questo mondiale non c'è l'Italia e non c'è l'Olanda ma l'Olanda deve far gara di rimessa per l'Italia questa è una pessima notizia perché sono tre elementi che non possono assolutamente essere mandati via così facilmente e il problema però è che dietro c'è il Belgio che si è messo a bloccare tutti una linea Maginot di maglie azzurrine anche un danese che dà una mano e i nostri lievemente intruppati non organizzatissimi perché Trentino e Ballerini stavano ancora cercando di ricongiungersi al gruppo mentre vediamo che Mazz l'ha subita e in questo modo comprendiamo anche che tipo di gara vuol fare la Danimarca adesso in poi anche se devo dire che ho pensato se Mazz non ce la fa sarebbe proprio corta la tua opzione migliore per la volata ristretta e invece il porno baffo in questa gara verrà usato più come specchietto per le allodole immagino per i motivi per i quali non l'avevo messo nella mia mega listona di favoriti cioè che non è un corridore a corse di un giorno non è abituato a correre una classica ai 250 km per vincerla come avevo detto nella breve preview questa gara era per pochi per esempio anvedi un po' chi è il primo e dico il primo a scollinare sul Musquestrat è l'unico muro in pavè presente sul percorso è brutto dirlo a posteriori ma il Giuliano si aveva dato un sacco di segnali avrei dovuto scaricarci lo stipendio sopra il problema è che nel frattempo casa mia si stava trasformando nel mondiale di Harrogate i tre prendono 20 secondi ed ecco finalmente i nostri azzurri che si affacciano in cima al gruppo ovviamente il boccino della situazione passa tutto alle nostre mani è praticamente l'unica opzione che ha l'Italia in questo momento tirare alla morte e cercare di andare a riprendere quei tre altrimenti quelli non li rivedi più dietro le altre squadre forti bloccheranno tutto a oltranza il problema è che in quel momento abbiamo pochi uomini perché ancora stanno risalendo il gruppo quelli che erano caduti e terminato il circuito nelle Fiandre c'è questo tratto di pianura devastante puramente da ventagli puramente a corsa del nord classicissimo tratto in cui succede qualcosa che se guardi solo l'altimetria non te ne renderai mai conto prima della gara ma sono questi spesso i tratti civili di queste corse e un gruppo infatti riesce a staccarsi e andare a caccia dei tre gli italiani si fanno fregare incolpevolmente e sono costretti a sprecare subito un uomo per andare a inseguire questa dozzina ai corridori Bissegher e Tratnik riescono a ricongiungersi ci sono pochi metri ancora per quelli dietro da coprire fase confusissima nella quale non si capisce se il gruppo li stia riprendendo se stanno andando via ma con Remco davanti a fare la locomettiva a tirare come un pazzo facendo una gran percentuale di turni alla fine la corda si spezza subito dopo Kasper Asgren che c'è anche lui in questo gruppo è un gruppo spazzesco tira una gran rasoiata sull'unico altro tratto in pavè presente Tratnik gli sta ruota molto bene Remco fatica un po' ma ce la fa poi seguono tutti gli altri ma nel frattempo il Kasperone ha creato un gran bel gap col Plotone stacca l'inquadratura e di nuovo la storia che si ripete quattro belgi davanti a bloccare tutto su questa strada stretta questo strappo l'hanno fatto tipo ai sei allora è stato assurdo una scena veramente paradossale e una scelta tattica assolutamente spregiudicata per il belgio che in questo gruppo il quale adesso andiamo a vedere la composizione aveva Remco e De Klerk ma nel gruppo c'era gente fortissima questa è un'azione distruttiva a loro interessa che la fuga prenda tempo solo esclusivamente per far lavorare di più l'Italia e chi è rimasto fuori servirà uscire dallo strappo e poi un altro paio di chilometri per vedere di nuovo l'Italia davanti e stavolta insieme ad ADM il vichingo Alessandro De Marchi c'è proprio Matteo Trentin che si mette a disposizione della squadra perché sa già che non potrà andare molto lontano nella pancia del gruppo nel frattempo cade il nuovo Maz ero davvero curioso di vedere come si avrebbero tradotti in gara mesi e mesi di video in cui dicevo che Maz avrebbe vinto il mondiale che era la mia pic che me la sentivo calla la risposta è così due cadute di cui la prima comica ritirato accetto donazioni in privato da parte dei ciclisti per non farsi nominare a me nelle preview non sono schizzinoso il gruppo davanti mentre Remco ti squadra da sotto l'occhiale è così composto con Froid e Arnaud Demare per la Francia e Vene Paul De Klerk due Maximuli del Belgio Magnus Cort e Kasper Asgen per la Danimarca duo pazzesco avrebbero dato l'anima per cercare di tenere vivo questo tentativo fino alla fine Ian Tratnik e Primoz Roglic per la Slovenia si fa vedere il campione olimpico a cronometro campione della Vuelta e Spagna cioè si fa vedere sarà quasi sempre nascosto però comunque lui c'è Ben Swift Pascal Encore Viseger Hölgaard Haas McNulty Erviti ci sono quindi quattro nazionali con due uomini e quindi questo tentativo come vediamo dalla grafica prende fino a un minuto sul gruppo e diventa seriamente pericolosissimo infatti dietro il treno azzurro si è finalmente organizzato del tutto tutta la squadra a menare per chilometri e chilometri un inseguimento disperato lo chiamerà Davide Cassani è veramente l'unica cosa che si potesse fare una volta che non eravamo riusciti ad entrare nella fuga per contingenze precedenti bellissimo il duello fra una serie di passisti veramente con pochi pari ma dei quali alcuni tiravano indietro la gamba e una squadra che funziona tutta come un unico polmone che gira 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 e si incita a vicenda e con comunque anche lì una serie di passisti mica niente male arrivano a 40 secondi e incredibile sfortuna proprio in quel momento fora Gianni Moscon eccolo lì Davide Cassani che cerca di dare il suo contributo anche pratico ma questa è un'altra tegola che non ci voleva perché era proprio un momento in cui stava andando ai 70 all'ora sia davanti che dietro non proprio tutti però Erenko come al solito lo nota e successivamente non manca di farlo notare agli altri protagonista assoluto quasi becca credo con Nathanas o con Erviti comunque con qualcuno che era da solo nel tentativo e il cui compito chiaramente è quello di cercare di mantenere viva l'azione ma risparmiando energie e Remco è inutile che ti lamenti sempre serve solo a prendere un po' di tempo televisivo ma a spezzarti i nervi nel lungo termine perché agli altri cosa gliene frega se te ti incazzi e poi magari hanno 10 anni più di te e se la lasciano scorrere via te invece continui a pensarci ti intestardisci e poi magari strafai vero Remchino ci diamo una calmata prima o poi questo screenshot l'ho fatto solo perché c'erano davanti il porno baffo e il casperone e mi sono bagnato qua ancora De Klerk che si incazza con Erviti sempre simpaticissimi gli spagnoli in corsa comunque ma d'altronde nel frattempo dietro era caduto Ivan Garzia Cortina e quindi tu puoi dirgli a Erviti di tirare quanto ti pare ma lui non tirerà mai molto semplice tornati al circuito di Leuven Remco fa di tutto ancora per tenere via questa azione nonostante il gruppo abbia ormai 9 secondi di stacco De Klerk gli ha detto varie volte di tenere anche un ritmo un po' più tranquillo che non c'era bisogno ma con la personalità di Remco non ci si fanno conti costretto ad abbandonare Davide Ballerini cuore oltre l'ostacolo e anche grazie a lui che su questo strappo scatta De Marchi per andare a riprendere la fuga c'è qualche chilometro di anarchia assoluta Trattnick e Remco davanti che continua a menare come dei fabbri anche Trentin saluta la telecamera e smette di pedalare facciamo un monumento a Matteo Trentin per favore e dopo tutto sto casino alla fine il gruppo è andato in fuga è quello che succede a volte in questi casi poi si si è finalmente riappallati ci sono stati un sacco di corridori che qua hanno perso energie preziose e i nostri amici belgi stavolta con Tiche Benot si sono rimessi a fare l'andatura siamo intorno ai 130 dalla fine e non c'è una fuga quindi visto che si stava un po' annoiando parte di nuovo la rumba di attacchi francesi ancora Anthony Turgis a 123 passiamo per il centro di Lovagno la città di Jasper Steuven addirittura una gru tiene sospeso un suo manifesto l'occhiare da figo un filino di pressione bandiera sudafricana ci sta sempre bene e poi ancora Francia sempre Francia mamma mia la Francia sia con Froid che Turgis datemeli tutti e due idolatria ai massimi livelli Shbem Turgis se ne va da solo indemoniati i transalpini penso sarebbe impossibile contare quanti attacchi hanno fatto in questa giornata chiude Timone de Klerk ma il belgio sta iniziando a perdere energie e aspetta cos'è che c'è scritto lì? c'è scritto Aremberg oh mio dio siamo ad Aremberg ho i brividi viva Aremberg viva la Roubaix viva l'Ovagno viva le patatine fritte eccetera eccetera è finito Tim de Klerk 150 km da custode del gruppo è il momento di Yvlan Pah i belgi girano e a un certo punto Beno va a dire a Campanaz che stava tirando troppo forte perché ok fare gara abbastanza dura per togliere dalla contesa i velocisti più pesanti e favorire la volata Ivan Hart ma comunque Ivan Hart stesso non vuole una gara esageratamente dura è pur sempre il più pesante tra i vari protagonisti che vediamo sempre nelle classiche però al belgio nel fare questi ritmi esagerati cosa pensava che saremmo arrivati in 60 all'arrivo che Christophe e Sagan erano più pericolosi di Alaphilippe un momento ignorantissimo Nathanasse che si è appena staccato dopo essere stato in fuga grande showman Willy davanti a tutto il pubblico dei fiandre o sarò ripetitivo ma io ho un'energia così ai bordi e strade non so quante volte l'ho vista fossi stato Nathanasse e se sapessi fare un Willy avrei fatto la stessa identica cosa quanto deve aver gasato quell'atmosfera anche solo da casa eravamo tutti ribaltati oddio io a questo punto della gara stavo già più o meno nuotando però ci siamo capiti anche solo rivederlo il giorno dopo è stato assurdo ve lo garantisco nel circuito di Lovagno bisogna rilanciare sempre e allora nascono spontaneamente anche dei tentativi parte Nispolit parte Gonzalo Serrano riparte Nispolit anche detto il dentone ma anche l'orecchione non scherza lo segue un po' di gente e su questa salita il gruppo si ferma di nuovo sì lo so che da st'inquadratura non si vede una mazza però gente gruppo fermo e chi l'avrebbe mai detto che a menare in discesa sia Remco la vuoi smettere di mangiarti questi cavolo di occhiali ti fa male questo gruppo è un po' più democratico perché non c'è nessuna squadra con due elementi c'è Remco per il Belgio Bazzoli per l'Italia Peolit per la Germania Tratnik per la Slovenia Madua per la Francia Mats Schwurgemit per la Danimarca Dylan Van Barle per l'Olanda Rasmus Thiller per la Norvegia Robertino Stannard per l'Australia Nilsson Paules per gli Stati Uniti come tipo di composizione questo è il gruppo perfetto praticamente mancava solo la Gran Bretagna che infatti mentre Remco davanti sgranava lo strappo di Weimpers per l'ennesima volta si mettono a tirare dietro perché hanno in squadra un qual certo Tom Pitkak la Francia comunque non ci stava eppure avendo Madua davanti che però non è una grande opzione magari per la volata ristretta continua a fare forcing continua a scattare a rompere le palle Van Barle fa vedere una bellissima gamba facendo un gran bel ritmo sullo Smeisberg fa staccare Standard e Cortina ancora una volta con Foix cerca di scattare a marcarlo stavolta è Victor Kampener che non lo aiuta il tentativo dura pochissimo mentre il passaggio successivo sul Muschestrat è assolutamente uno dei punti decisivi di questa gara dalla fuga parte Andrea Baggioli molla gli indugi e distrugge totalmente questo gruppetto il Baggiolino dietro grosso forcing di Miko Chiatoschi dal nulla che si porta dietro Wutvanhard e tutti gli altri favoriti davanti dopo l'azione di Baggioli rimangono solo in 5 Madua e vene Pol Baggioli Van Barle Paules mentre Chiatos dopo aver menato per tutto lo strappo in Pave prosegue l'azione sul tratto in discesa successivo diventa immediatamente pericolosissimo per tutti perché Chiatos è Chiatos gli si accoda Pellit che si è staccato alla fuga di nuovo una fase di anarchia in mezzo ai campi e questo qui che fa una sparatina secchettina per vedere se da questa fase sarebbe creata la fuga giusta è Michael Walgren anche detto il più grande outsider del mondiale di ciclismo che c'è proprio sta sparata bella bella in questo momento ce la fa vedere per la prima volta poker di passistoni Tratnik Kampenerz Walgren Chiatosky ho paura qua c'è anche Küng però mentre Remco è davanti con altri 4 dietro il belgio fa il ritmo quindi cosa mi sta a significare che Remco è puramente uno specchietto per allodole ma allora perché Remco è in tutti i tentativi da inizio gara e spende così tanto 58 chilometri dalla fine Beke Strat il primo scatto di Giuliano Lafilippe il vuttone gli si incolla alla ruota segue anche un certo Taddeo Pogacar e il Giuliano distrugge totalmente la corsa risponde bene il belgio con Van Aert e Stuyven c'è Zden e Stibar dietro di loro e Sonny Colbrelli che si vede per la prima volta a ruota di Pogacar il Giuliano si ferma un attimo osserva la situazione fa passare davanti Van Aert fa passare un chilometrino non di più e riparte sopra stavolta lo segue Tom Pitca che nel frattempo è arrivato da dietro insieme ad altri sul culo di Pitca c'è Van Aert colbrelli costretto a chiudere il buco e Van Aert che subito dopo rinforza l'azione mettendosi anche lui a tirare quando il Giuliano smette di fare il pazzo perché in questo gruppetto c'è anche Stuve situazione invidiabile per il Belgio che ha anche Remco davanti fase concitatissima e decisiva perché da dietro si è inserito Giacomone Nizzolo che però si mette a non tirare in questo gruppetto e qui mentre c'era questa gara di rilanci con Van Aert Seneschal Van Der Poel tutti più forti c'era il Giuliano che si incazzava con Nizzolo dicendo ma non prendermi in giro siete due entrambi velocissimi o aiutate o sta roba naufraga in 0-2 forse le parole erano un pochino più dure quelle che ho usato io però dietro tirano i danesi che non hanno nessuno la trenata di Woot fa ricongiungere i due gruppetti e subito Remco si mette a tirare per lui davanti e con Remco che tira Van Aert e Stuyven che aiutano tre italiani tre francesi questo gruppo è destinato a rimanere fuori per sempre lo sa benissimo Michael Valgren che per la seconda volta con un colpo d'occhio eccellente e con una condizione invidiabile si ricongiunge proprio in questo momento dopo la trenata a suo favore di Asgren ancora la sparata secca e mentre dietro stanno per mollare davanti c'è Remco che mena come un fabbro e qui c'è Valgren che sta arrivando e altri due che ci avevano provato ma non si riusciranno perché non hanno quella gamba lì ultima occasione di rientrare per quelli dietro ma davanti c'è Remco che sta facendo il folle e alla fine sarà questo il gruppo definitivo andiamo a vedere chi sono i nostri 17 eroi a 51 dalla fine abbiamo tre francesi alla Philippe Madouas tre belgi e vene paul van arstuyven tre italiani bagzoli col brellini solo van der poel e van bar per l'olanda moritz per la slovenia ancora paules per gli stati uniti hulgard per la norvegia tom pitcock per la gran bretagna e michael wargren hundal ultimo smaceberg non poteva che partire di nuovo giuliana la philippe questa ha fatto veramente male fa subito gap e gli salta sulla ruota sonni col brelli prendendo una scelta che lì per lì nel fomento mi era anche piaciuta ma a posteriori secondo me sonni qua si è bruciato qualcosina di importante per il finale corsa e non aveva tutta questa necessità di andare dietro alla philippe in gruppo c'erano remko van art e stuyven più i suoi due compagni italiani uccidersi qui per cercare di stare con alla philippe nel terreno dove alla philippe è il migliore del mondo a posteriori con sonni che in intervista peraltro ha dichiarato di aver avuto il piano tattico di stare tutta la gara sulle ruote di van der poel e van art la giudica una scelta alquanto istintiva che se ponderata forse il buon sonni non avrebbe dovuto fare cattivissimi comunque i due per un attimo sembrava veramente una bellissima azione e sonni ha dimostrato comunque di riuscire a stare dietro al giuliano in quel tratto ma dietro appunto con remko che si sta sacrificando al 100% per van art è praticamente impensabile andarsene infatti giuliano stringe i denti mentre vengono ripresi ha già dato tre sgasate spaventose ha già usato tre cartouche come le definiranno praticamente tutti i ciclisti all'arrivo e qua c'è stato un nuovo momento sonni contro remko i due rischiano tantissimo di toccarsi e poi classica scena sonni che lo manda a quel paese quante volte l'abbiamo visto in questa stagione grande sonni porta alto il nome dell'italianità nel mondo e fare uno screenshot era impossibile ma questa è la mano di remko che dice a sonni stare calmo vabbè solite scaramuzze o i soliti protagonisti dopo l'europeo non è che si vogliano così bene remko e sonni usiamo questi eufemismi siamo a 45 dalla fine remko si mette in modalità cruise control o meglio ancora una volta non è che fa un'andatura controllata lui spinge sempre tutto in questa fase aveva paura che quelli dietro potessero riprendere questo gruppetto perfetto per il belgio e in più c'è il solito discorso di tenere l'andatura più alta possibile per evitare che possano esserci scatti improvvisi molto più efficaci se l'andatura è più bassa molto più difficili da controllare però mentre da dietro c'era questo quartetto con foe a camp nella spolans polit che cercherà più o meno fino alla fine anche di fare qualcosa di rimontare di sperare che davanti si addormentassero in realtà quello che sta facendo remko in questa fase è ammazzare se stesso e permettere a tutti gli altri di stare comodamente a ruota pagioli gli dà un po' di cambi ma remko sarà stato davanti tipo l'80% del tempo e in generale di tutta la gara praticamente ma ce n'era veramente il bisogno perché ora stiamo per entrare nei due minuti più importanti di tutta la gara e remko è praticamente esausto juliana la philippe mentre va all'ammiraglia francese si permette pure di dare una spinta sul culo al compagno di squadra in quick step come se fossimo a 170 km dalla fine di una tappa di pianura di un gt proprio e si mette dietro a parlare con voclaire questa è la scena madre di tutto questo mondiale perché punto numero uno se non hai una gamba mostruosa e una mente zen non ti stacchi dal gruppetto decisivo così tranquillamente mentre davanti potrebbe succedere qualcosa punto numero due qua voclaire sta dicendo alla philippe stai tranquillo stai calmo fatti guidare dai tuoi istinti ma non attaccare alla cazzo di cane e il juliano gli dice come scusa non ho sentito bene ma hai detto che devo attaccare come un folle pazzo squinternato e voclaire no 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 sta tranquillo sta a ruota abbiamo anche seneschal dietro e il juliano ok ok vado e spacco tutto e voclaire no non farlo ok ok smetto un attimo con le gag questo momento appunto è il momento chiave del mondiale e voclaire e alla philippe è una coppia speciale non ci avevo pensato ancora prima di questo mondiale ma sono fatti palesemente l'uno per l'altro è un matrimonio perfetto sono due persone puramente istintive due combattenti assurdi ma entrambi hanno anche un'intelligenza tattica veramente notevole sono dei killer sant'antoniusberg Remco sta tirando ancora a tutta su questo strappo si sparerà un altro 7-8 km tutti davanti praticamente e a 26,3 dalla fine è costretto ad abbassare la testa spostarsi lasciare l'incombenza ad Andrea Baggioli e salutare tutta la compagnia e io mi chiedo ma in funzione della vittoria di Van Aert e quindi di trainare Van Aert tenendo controllato un gruppetto le azioni di Remco sarebbero state più importanti a 180 150 90 km dall'arrivo o adesso a 30 25 20 dalla fine quando ci sono esattamente quelli con più gamba che stanno aspettando di piazzare l'allungo decisivo certo pochissimi avrebbero pensato che alla Filippa avrebbe avuto così tante cartouche ma ti sei comunque esposto il gruppo è diventato immediatamente anarchico qua addirittura a Baggioli gli stavano per lasciare un buco si è preso qualche metro qua ha rischiato di andarsene via ci si è iniziati a guardare qualcuno ovviamente non voleva tirare c'erano Van Aert Van Der Poel gente pericolosissima la situazione è diventata incontrollabile e nel frattempo il Giuliano stava facendo il pirla addirittura andate a rivederne la registrazione della gara qua non so assolutamente per quale motivo si è messo a fare tipo i motociclisti faceva le pieghe il giullarone manda in ava scoperta Valentin Madua e qua si mette a tirare l'Italia e i due belgi sono dietro nessuno di due vuole sprecarsi e c'è un altro dei momenti decisivi di questa gara il Giuliano va all'orecchio del Valentino e dice andiamo a vincere sto mondiale Valentino c'ho una cosetta in mente che qua mi sembrano tutti belli cotti e soprattutto non c'è più Remco il Valentino si mette davanti anche se ne scialda una mano ad alzare l'andatura in avvicinamento al Wimpers lo strappo più importante del percorso e qua i francesi devono veramente fare una statua Madua che ha fatto un mondiale secondo me assurdo è stato il loro vero grande valore aggiunto rispetto a quello che uno si poteva aspettare Trenatona in favore del Giuliano ha fatto letteralmente una volata qua il Valentino ha dato assolutamente tutto quello che aveva il Giuliano gli è dovuto solo fra virgolette stare a ruota mentre gli altri non ce la facevano azione fantastica di Madua e poi come se fosse scritto nel copione che lui stesso aveva scritto prima parlando con Vaucler poi parlando con Madua ma anche quando faceva il regista 150 km fa dicendo a Confroy di partire tutto ciò era in preparazione alla rasoiata spaventosa di Giuliana Lafilippe in mezzo a un delirio di pubblico reagisce per primo proprio Vout Van Aert seguito da uno Stibar di dieci anni fa ma a pochi metri dalla fine dello strappo Van Aert butta giù la testa cambia rapporto ma ovviamente come siamo abituati a vedere da tutta la stagione figuriamoci oggi giorno nel quale il Belgio ha corso in quel modo nessuno è disposto a dare mezza mano a Vout Van Aert in questo inseguimento Alaphilippe a pochi secondi ma continua a pestare duro senza voltarsi indietro piano piano riesce a fare un gap e qua infine Van Aert si gira è una piccola resa sulla sinistra sta nascendo un nuovo tentativo il terzetto è Piccox tui ven colbrelli che sarebbe un terzetto perfetto ma da dietro ripartono anche gli altri Van Aert e Van Der Poel dietro si fermano e sembra che possano andare questi quattro e per l'Italia sarebbe una situazione spettacolare con Sonny ma mentre dietro si fa a gara a chi chiude il buco chiudi te non chiude lui non chiude quell'altro alla fine l'ultimo a doverlo chiudere indovina un po' è Vout Van Aert con Van Der Poel a ruota e se ne shall ripreso per la quarta volta alla Philippe che però continua ne aveva a pacchi ne aveva infinita gli ha messi in croce fino all'ultimo metro per farsi riprendere il quartetto nel frattempo era diventato un quintetto ma alla fine ci si riappallerà sarà l'Italia stavolta a prendere la situazione in mano perché è rimasta con Nizzolo e col Brelli ma mentre Nizzolo fa il ritmo sul Sant'Antoniusberg in punto in cui nessuno pensava sarebbe mai successo qualcosa in questo mondiale io non ci posso credere il quinto attacco secco di Giuliana La Philippe la quinta cartouche e qua nessuno si è messo a fare un ritmo più alto di quello di Giacomo Nizzolo su uno strappo ripido uno dei due belgici sarebbe assolutamente dovuto sprecare qua e invece se ne va Nilsson Paules addirittura dietro facce da funerale Stuvian a un sussulto riesce a saltare su Paules da dietro si inserisce anche Van Barley sono i due gregari di Van Aert e Van Der Poel che in questo momento stanno un po' facendo quello che fecero a Gand Wegevel si stanno guardando decidendo che non deve vincere l'altro ma ancor più non ne hanno questa gara così devastante impostata dai francesi gli ha spezzato le gambe anche se sono Vute Mathieu chi ha le gambe invece è il danese Valgren che per la terza volta in questa gara col colpo d'occhio perfetto vede che in questo momento nessuno sta tirando e ancora una volta parte secco avrebbe secondo me decisamente dovuto cercare di fare lo stesso anche Sonny qua troppo coinvolto in questa serie di marcature a vicenda con Van Aert e Van Der Poel e addirittura dietro si mette a fare il ritmo Vute con Stuiven davanti questa sinceramente non l'ho capita nel frattempo il Giuliano sta scrivendo la storia se ne va passa sotto il traguardo dell'ultimo giro con 10 secondi su Paulus e sul terzetto che lo segue 25 secondi già sul gruppo nuovamente adesso tirato da Zaha Munizolo che ovviamente dopo quello strappo ha dovuto rifiatare adesso si rimette davanti ma 25 secondi sono già tantissimi Alaphilippe è praticamente imbattibile ormai si è capito si può puntare una medaglia da qua in poi però amici fiamminghi vi avevo già fatto notare dopo la cronometro di Ganna che sta cosa di dire ai corridori di andare più piano non funziona l'avete gasato il Giuliano altro che rallentare col Brelli prova uno scatto a 10 dalla fine per riuscire a togliersi da quel gioco di marcature ma non si riesce so che otterrà sarà anzi di far allontanare ancora di più i fuggitivi perché dopo questa azione ci si guarderà ovviamente non solo ci sarà Seneschal che si mette a fare i blocchi davanti favorendo l'azione del compagno gran gara anche per il Floriano segniamocelo per la Roubaix direi che è uno dei top 3 favoriti tanto la vince un quick step tanto anche oggi avrebbe sempre vinto un quick step quest'ultima frase non è mai stata detta le facce del Giuliano immancabili addirittura Madoua si prende il lusso di scattare dal gruppo metti che prendevano due medaglie su tre e poi la scena che è diventata già celebre il fogliettino con scritto il distacco datemi 100 corse senza radioline all'anno per favore per favore ce le meritiamo è ancora il pubblico che gasa il Giuliano dietro Madoua non riesce a dar continuità all'azione ci riesce invece Tom Pitca che zitto zitto gnorri gnorri ha fatto una gara nascosta ma tatticamente egregia visto che corre per una nazione non forte come le altre dei favoriti e al suo primo mondiale farà sesto è mica male dopo un mondiale pazzesco sei ore di corsa full gas da parte della Francia e di tutti quanti con un muro di folla ad acclamarlo ma non solo anche a fischiarlo a buarlo a lanciargli delle secchiate d'acqua che molto probabilmente non erano d'acqua Julien Alaphilippe da Saint-Amand Montrande va a conquistare il suo secondo titolo mondiale di fila in solitaria come scusa credo non l'abbia mai fatto nessuno in tutta la storia del ciclismo o quantomeno sono passati tre giorni dalla gara e ancora non ho visto qualcuno che mi ha citato un altro che ci è riuscito eventualmente scrivetemelo qua sotto sicuramente non è successo negli ultimi 40-50 anni assolutamente più che leggendario Julien Alaphilippe con i cinque scatti che demoliscono un mondiale dietro la volata per le medaglie molto interessante perché c'è Stuyven che è favoritissimo a livello di velocisti e in più dovrebbe conoscere molto bene le strade è in casa è il secondo del trenino Paulus Paulus getta la medaglia nella discarica lanciando la volata da lontanissimo per primo Stuyven esce alle sue spalle troppo presto però volata a tre incredibile tra lui Valgren e Van Barle tutti impiccatissimi dopo una gara ridicolmente dura e dopo esser partito a razzo Stuyven si fa rimontare clamorosamente e alla fine in questo fotofinish drammatico sarà proprio lui ad avere l'appeggio e non prendere la medaglia Valgren dopo i tre scatti di intelligenza si era tenuto anche qualcosa per il finale e si prende il bronzo ma la sorpresissima è che Dylan Van Barle il cronomen Dylan Van Barle batta in volata due che comunque hanno vinto delle classiche conosciamo anche come scattisti oltre che uomini duri Van Barle onestamente credevo fosse assolutamente fermo in una situazione del genere e invece si prende un argento grande come una casa dopo una bellissima stagione da Gregario e da uomo delle classiche riesce ad evadere dal gruppo dietro anche Zdenek Stibar nel finale Van Der Poel vince la volata su Seneschale col Brelli Van Hart fa quarto e undicesimo complessivo è la sconfitta assoluta dei padroni di casa Belgi ad opera di un cugino francese e il primo a andare a complimentarsi con Giuliano è stato Stibar e dopo sono arrivati i francesi comunque tutti della quick step Seneschale tutti ad abbracciarsi insieme c'era Lefebvre davanti alla televisione con i suoi piani diabolici mediatici contro il Belgio di Remco che stava festeggiando alla grande Matteo Van Der Poel arriva con un gran sorriso e si complimenta subito col Giuliano è sembrato veramente felice che avesse vinto lui perché il Giuliano è un personaggio assolutamente positivo ben voluto un attaccante di cuore sicuramente nervoso fastidioso nelle volate ristrette molto protagonista come tipo di personaggio ma fra campioni ci si riconosce Van Barley inizialmente tipo cosa è appena successo scusate no dai non è vero che ho fatto secondo dai ho fatto quarto sicuro in quella volatina e qualcuno di fianco che gli ha detto no no vecchio hai fatto secondo argento mondiale e lui tipo ma davvero dai non ci credo non ci credo e la faccia di Michael Valgren dice praticamente tutto di questa corsa non penso di dover aggiungere altro oh un po' di Marion qua esibizionisti a quanto ho capito c'erano circa 350.000 persone per la premiazione e i festeggiamenti finali ok grazie l'ovagno di esistere tipo e che dire se non ve lo decisamente ve lo oggi ed ecco il nostro Chad preferito e dai cosa vuoi che abbia fatto non sono poi così figo cioè sono solo tipo lo Sean Penn del ciclismo no con questo sguardo mo ti buco cioè lo capite quanto sono figo lo capite quanto sono Chad quest'anno ho fatto lo gnorri tutto l'anno ho avuto un figlio me la sono spassata e poi vinco il mondiale a casa vostra così senza preavviso il grande sconfitto Wout van Aert o Fout o Fout ho parlato più volte in passato del fatto che solitamente si mostra felice anche dei secondi posti durante questo mondiale belga non è assolutamente stato così molto arrabbiato con se stesso il Woutone che ha rilasciato penso pazificamente l'intervista più amara della sua carriera aveva uno sguardo che era tutto un programma ha preso tipo dieci anni in un giorno in faccia e ha detto che fino all'ultimo scatto del Giuliano si sentiva bene e poco prima ma Stuyven dice subito dopo aveva detto al Zasperone di fare la corsa per se stesso perché in realtà aveva capito di non averne così tanta ora fermatevi un attimo con me se Van Aert pensava di essere in forma io dubito che non fosse così e se gli si è spenta la lucina proprio a 15 20 chilometri dalla fine non avete anche voi l'idea che il Belgio non avrebbe dovuto far menare Remco così tanto in ogni singolo metro di gara che oltre agli attacchi continui della Franza forse è stato proprio l'atteggiamento del Belgio a fare del male alle gambe di Wout van Aert che poi non è riuscito a seguire l'attacco decisivo sono molto curioso di sapere cosa ne pensate e con questo non sto accusando Remco Remco secondo me nella sua testa ha agito completamente per la squadra il problema solito di Remco è che è molto giovane non conosce alla perfezione i meandri del proprio cervello anche e io credo che dopo le dichiarazioni dei giorni precedenti di Merckx di Remco di Lefevere del CT belga di tutti che dicevano che Remco doveva assolutamente lavorare per Wout che Wout era il capitano unico era ovvio che avrebbe avuto tantissima pressione durante questo mondiale ma ci hanno veramente messo il carico hanno esagerato e nel frattempo Remco nel far vedere che agiva per la squadra si è fatto vedere tantissimo sono state azioni altruiste ma secondo me anche abbastanza narcisiste Remco si è creato l'alibi perfetto mentre ha ammazzato la gara Ivan Hart a cose viste non so se l'abbia fatto a posto o no ma sicuramente questo negli anni prossimi a livello di credito dentro la nazionale belga questa gara avrà un valore preciso come dicevo all'inizio è stata una pietra miliare anche per gli anni futuri esattamente in questo senso qua perché lo stesso Jasper Steuven era molto incazzato sul traguardo fra le altre cose proprio perché Van Hart gli aveva detto molto tardi di non averne e che poteva essere libero e ha detto ho usato qualche cartouche che forse mi sarei potuto tenere e poi magari non vincevo ma vuoi che non vincevo una medaglia involata contro Valgren e Van Barle se fossi stato minimamente lucido veramente amarissima la sua intervista un quarto posto che gli brucerà per tutta la carriera mentre Van Der Poel non gliene fregava una mazza più o meno ha detto non ero al meglio lo sapevamo d'altronde ho fatto il possibile ed è vero non era nelle condizioni di fare una gara attacco ha provato a fare una gara tendista sulle ruote di Van Hart la ciambella non è riuscita col buco ma non era lui ad avere la pressione addosso e infatti in realtà era anche abbastanza rilassato a differenza ai belgi poi la possiamo girare come vogliamo la verità è che il Giuliano li ha schiantati tutti tu oggi e con oggi intendo il 27 settembre potevi fare quello che volevi ma lui avrebbe vinto aveva troppe cartouche troppe era il più forte sugli strappi è stato fortissimo anche sul passo non l'hanno ripreso neanche per sbaglio è un fenomeno oggi è stato Bettiniano grillesco è stato perfetto e spietato e sa scegliere molto molto bene i momenti di stagione in cui concentrare i propri picchi di forma è lui non Van Hart e Van Der Poel il corridore più vincente nelle corse di un giorno e gli ultimi anni come dicevo spesso in primavera dal driello spesso è proprio il Giuliano che ne esce vincitore in qualche modo riesce a essere più nascosto degli altri due nonostante sia campione del mondo in carica e quest'anno lo sarà per una seconda volta giustamente celebrato dall'equipe non farò gag su come i giornali italiani trattano il ciclismo perché non meritano neanche che gli dedichi qualche secondo di spazio e l'Italia beh credo che il mio pensiero sulla corsa italiana sia già un po' venuto fuori siamo stati estremamente sfortunati dopo gli incidenti abbiamo affrontato una parte centrale di gara nella maniera migliore possibile nel finale secondo me si poteva trarre qualcosa di meglio a quella situazione eravamo 3 su 17 forse invece che aiutare il Belgio a tirare ci saremmo dovuti nascondere provare qualche attacco ma eravamo ormai committati su Sonny Colbrelli e il bagiolino credo avesse speso veramente tanto durante la gara su Davide Cassani voglio fare un bilancio complessivo quando pubblicherò il video dell'europeo a fine stagione nel frattempo però voglio leggere il messaggio che ha scritto Trentin sulla chat della squadra poi reso pubblico dallo stesso Cassani perché secondo me riassume un pochino tutto ragazzi ancora una volta abbiamo corso la squadra abbiamo rivaltato una situazione drammatica in un vantaggio i risultati vanno e vengono ma lo spirito che abbiamo creato in maglia azzurra è qualcosa che resta e giovani come Baggioli sono pronti a coglierlo sono pienamente d'accordo con la visione di Capitan Teo in questi anni l'Italia ha sempre corso la squadra e quando guardiamo una corsa per nazionali questa è la prima cosa che ci deve interessare perché nel frattempo vediamo tante altre squadre che hanno dei grossi problemi interni di gestione che non sono realmente unite sono degli insiemi di singoli l'Italia è una squadra sola in questo mondiale per non parlare dell'europeo si è visto molto molto bene non si può vincere sempre ma si può essere sempre una grande squadra tra l'altro non è anche menzionato tutti i problemi che ha avuto una azione italiana è stata una caduta di Baggioli insieme a Dieter nelle prime fasi è stata una foratura di Ulissi è successo un po' di tutto certe cose non le puoi controllare comunque lo ribadisco lo ribadirò per sempre i belgi sono adorabili hanno fischiato alla Philippe per tutti gli ultimi 20 chilometri a livello sportivo l'hanno palesemente odiato gli ha tolto un sogno lui stesso ha detto dopo la gara che il fatto di sapere che ci fossero decine centinaia di migliaia di persone intorno a lui che tifavano solo vanarte gli ha dato una spinta maggiore dichiarazione pesantissima ma perché i belgi sono adorabili perché alla fine dopo la premiazione ci sono stati cori grossi festeggiamenti tutti insieme comandati dallo stesso Giuliano diventato capo popolo questo nonostante le buste di piscio è esattamente ciò che cerco dallo sport per ore e ore la folla belga è impazzita per Remco e Wout anche se mi viene da dire soprattutto per Remco che credo stia diventando sempre più un'icona assoluta da quelle parti fra un po' vediamo i santini tipo Maradona ma poi dopo questa folla rende il giusto merito al campione e quel fatto del 30-40% di birra è stato troppo il valore aggiunto di questo mondiale lo posso dire e io vi saluto con questo podio e se devo trovare un tratto comune all'interno di questo podio rimembrando la preview è che sono tre corridori duri come la pietra questo era il racconto di una corsa che farà parlare di sé per decenni a venire una corsa indimenticabile molto probabilmente il mondiale più bello che abbiamo mai visto se sei arrivato fino a qua sei quasi in dovere morale di darmi un like se ti piace questo racconto ti invito ad iscriverti perché ne seguiranno tanti altri questa è stata la stagione beta di Pietre nella prossima ci divertiamo per davvero inondatemi la casella dei commenti di messaggi sulla tattica di questa gara ci si potrebbero scrivere dei libri e se ti piace questa roba condividila parlane in giro perché dietro c'è veramente tanto lavoro vi ringrazio per l'attenzione i prossimi giorni weekend sacro con Giro delle Miglie Parigi-Roubaix ci vediamo ai prossimi video ciao